Eccoci qui ragazzi sono Goldrake e come detto ragazzi oggi siamo qua in un nuovo face to face Questo face to face è stato creato da Lorenzo Che caos c'è regà è un attimo di pazienza 3 2 1 partiamo col turbo vai 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 andiamo 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 Comunque è spettacolare Si vede dalla miniatura raga che è uno spettacolo No 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 Ok ok vai andiamo 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 ragazzi concentrati al massimo Occhio che questo torna occhio che questo torna Frena 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 Ok questo veicolo è strano Comunque è coi veicoli moddati Ok anche gli altri stanno arrivando ecco guardate Daniel che ha fremato prima E sta facendo il retromarcia Via 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 che perdiamo tempo via Dai veloce veloce andiamo 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 Ok comunque ringrazio tutti quelli che sono entrati ragazzi grazie mille C'è anche il creatore Lorenzo che mi sa che è un po' trollato in questo Eccolo qua appunto a proposito di troll L'abbiamo visto che è abbastanza trollato Oh ma qua mi voglio buttar giù via 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 Andiamocene via ok vai ok ci siamo ragazzi I primi due sono lì occhio 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 Non ci credo è caduto all'ultimo non so se l'ha buttato giù ragazzi non lo so Comunque vai andiamo subito per questo bellissimo face to face Vai 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 cosa fa mi sa che non è una buona idea saltare Ecco appunto Oh ok 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 ci siamo Siamo vivi Siamo vivi Siamo vivi Ok vai 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 andiamo 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 frena ok Perfetto vai ragazzi ci siamo Vai ok ok ragazzi scusate sono stato zitto Ma che azione abbiamo fatto ragazzi abbiamo saltato così Cattivissimi Comunque ragazzi in questi giorni dovrò registrare un sacco di attività Quindi preparatevi online su GTA 5 Vi ringrazio per i 1900 iscritti Stiamo arrivando piano piano ai 2000 Quindi dai così mi raccomando Fate iscrivere chiunque Occhio qua occhio chi è non lo voglio trollare Archie poverino Non se lo merita Anche se non deve farmi perdere tempo Ecco l'ho trollato No 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 non provarci non devi provarci Ok ci siamo ragazzi ci siamo Prendiamo il nostro check Ok che macchina è questa è la Neo E la Viper Neo mi pare No non si chiama così Ci chiama Neo ma non il nome iniziale L'ho sbagliato Ok vai 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 Ok Vai occhio qua si stanno trollando tutti Ok Vai vai con la Neo Vai con la Neo Oh A terra a terra a terra A terra non ci credo Non ci credo ma ha trollato Lorenzo Ma ha trollato proprio il creatore Ragazzi io non ci voglio credere Dovremmo trollarlo Ecco adesso non ce la faremo mai più raga Non ce la faremo mai più Guardate qua eh Questi sono i face to face Questi sono i face to face Attenzione andiamo 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 Ok questo mi ha preso la scia No e dai raga però non così non così che mi fregano Tutte le posizioni Chi è Lore Come va Lore Ti vedo fermo Che succede No no dai 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 Perché mi devi trollare perché non lo so Non lo so raga non lo so Mi vogliono trollare adesso io Quando mai concluderò questa gara Non ne ho la minima idea Vai 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 Seconda posizione Che comunque non è male Vai 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 Andiamo Andiamo Ok Ci abbiamo davanti proprio Lorenzo Ok vai 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 Primi secondi Primi secondi Adesso forse primi Sì perché la facciamo meglio Vai 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 Oh Piano 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 Oh veloce 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 Vai 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 No Lore 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 Non mi devi trollare Non mi devi trollare Vai vai Accelera 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 Acceleriamo Siamo in prima posizione Occhio qua Occhio qua Ok Andiamo Cara cara Spettacolare Spettacolare ragazzi Questo cara cara Appunto Senza farlo apposta Raga che cosa state facendo dietro Che cosa state facendo Non lo voglio sapere Se è trollato Se è trollato Lorenzo Ragazzi Ma andiamo Andiamo con cattiveria Tre No Vigilante Vigilante Ragazzi adesso ce ne abbiamo tutti contro Siamo arrivati Siamo in set Allora vai 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 Ok Ok Vai 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 Fatemi passare Fatemi passare Vai 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 Andiamo 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 qua Ok Perfetto Occhio perché Questo lo vedo Che ha un po' Trollato Grazie mille Questo ha frenato Dove Cosa volevi fare Volevi trollarmi Per caso E adesso abbiamo la Delaxo Delaxo Oh Chi è È Lorenzo Mamma mia No 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 Tra l'altro raga ho la Delaxo Che è quella Modificata Niente Respawniamo Ragazzi Non c'è niente da fare Mi vogliono Trollare Mi sa che ce l'hanno fatta Per la primera Però in teoria Il creatore Come è saputo Non può concludere In prima Oh Passiamo 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 Siamo in prima Invece Siamo in prima Vai 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 Andiamo 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 Ragazzi Dobbiamo andarcene Quanti check mancano 9 su 11 È quasi finita Raga È quasi finita Vai così Siamo in prima Prendi la moto La moto La moto La moto La moto Che moto è Che moto è questa Oh Lorenzo Dove vuoi andare Occhio 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 Vai Ok Perfetto Oh No 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 Ok Perfetto Ci siamo Perfetto raga Ultima Ultima volta Truffate Trax Di nuovo Ok Andiamo 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 Ok Niente raga Ci siamo trollati Mi sa che siamo secondi Non lo so Chi è Ah no Ok No Oh Niente 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 Ancora Ancora Sta arrivando Lorenzo Sta arrivando Lorenzo Raga Lo sapevo Tearo Ma Non ci credo Ce l'ha fatta Raga Ce l'ha fatta Stavolta è sicuro Seconda posizione E lo Oh Oh Non allarghiamoci troppo Oh in teoria il creatore non può vincere però eh Mi raccomando Lore non puoi Vincere Vai No No raga non ci credo Adesso ci fregano anche la seconda No prima Prima Oh Vai 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 Andiamo 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 anche Lorenzo Si è trollato Forse l'ho trollato io No no Quello lì no Quello no Quello No Raga È impossibile passare È impossibile Mi frega E mi frega E mi sa che Oh Continua A trollare Dai 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 raga Niente La prima era Non me la prenderò mai Adesso anche la seconda Mi sa Che se ne va Quindi Perfetto Ok Vai 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 Ci abbiamo qua Lorenzo Il creatore Oh Lorenzo Dove scappi E andiamo a concludere In prima Posizione Ragazzi ve lo giuro Non l'ho fatto apposta Lorenzo Non l'ho fatto apposta Mi dispiace Scusami Lore Comunque adesso Prenderà penso La seconda posizione Niente ragazzi Io spero che questo Face to face Di Lorenzo Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi Se non vi siete iscritti Attivate la campanella E noi ci vediamo Al prossimo video Bella E noi ci vediamo